Mi è stato segnalato un canale YouTube gestito da PlayOn, PlayOn è l'ex Coach Media, nonché la creatrice dell'etichetta Midnight Factory. Mi è stato segnalato un canale YouTube con film gratuiti. Mi è stato chiesto di fare una recensione di un film da questo canale e anche se c'erano degli horror, delle cose simili, ho scelto, perché l'ho trovato lì sopra, Picnic a Hanging Rock. Il canale si chiama Movie Don't It, sono quasi tutti film d'azione o per esempio ci sono dei film fantasy come The Shintians, film come Vlad l'Impalatore, cose così. Sono film molto, molto, con molto tanto action, cose del genere. Dentro io ho trovato anche delle cose particolari come appunto, vediamo se lo trovo qua, come appunto il film Picnic a Hanging Rock e subito mi sono fiondato, ho detto no, questo qua lo recensisco. Picnic a Hanging Rock. Quindi fondamentalmente non sono a noleggio, sono video di YouTube, ma sono legali, sono assolutamente legali, perché questo canale è gestito da PlayOn, come potete vedere nelle informazioni. Detto ciò, se volete andare a dare un'occhiata e vi metto il link in chat del canale YouTube, se ci saranno altre cose interessanti vi metterò i link nel Discord dove io consiglio i film, quindi qua addirittura sono gratuiti. Su Movidom ho potuto vedere appunto Free Picnic a Hanging Rock. Adesso ci vediamo il trailer un attimo e poi ve ne parlo. Già dal trailer si vedono delle immagini molto, molto belle esteticamente, adesso ne parliamo. Allora, Picnic a Hanging Rock è un film del 1975 di Peter Weir. Oggi vi dico un po' quelle che sono le peculiarità di questo film, perché questo film è a tutti gli effetti un film horror, anche se non sembra. Qualcuno faticherebbe anche a chiamarlo thriller, ma per me è un horror a tutti gli effetti e vi spiegherò perché. E poi vi dirò che fine hanno fatto le tre protagoniste scomparse. Esattamente. Per cui qualcuno di voi forse lo sa, se segue l'autrice del libro da cui è tratto, che è appunto, come leggevamo prima, del 1965, mi sembra, il libro. Vi svelerò questa cosa chiaramente se volete, perché una delle cose affascinanti appunto di Picnic a Hanging Rock è proprio il mistero. Allora, Peter Weir, sapete che è un regista australiano, molto famoso, che ha fatto film come Witness, Il Testimone, L'attimo fuggente, Truman Show, Master and Commander. Tutti, tra l'altro, film molto diversi tra di loro, da cominciare appunto da Picnic a Hanging Rock per finire con Master and Commander. C'è proprio... È veramente un regista eccezionale. Forse, ecco, ce lo stiamo un po' dimenticando, ma è un bene che abbia fatto questi grandi film, perché se ne sono film che ci porteranno sempre a parlare di lui. Il soggetto appunto è tratto dal romanzo di Joan Lindsay, scrittrice anche lei australiana, e racconta la storia di questo collegio, dove finiscono le bambine ricche, ragazzine ricche, diciamo, adolescenti, ma non solo, anche ragazzine povere che vengono assistite da un orfanotrofio, che paga la retta, insomma, c'è anche questo tema qua, poi lo vediamo. Il titolo vi racconta qual è la trama. Ci sarà alla fine un picnic a Hanging Rock, cioè la roccia, una roccia che c'è lì, da quelle parti, nella natura, una roccia che si chiama appunto Hanging. La tutrice di queste ragazze e questo gruppo di ragazze andranno a fare un picnic, cioè a fare una passeggiata in mezzo alla natura. Il problema sta appunto in quello che accade, cioè che a un certo punto una parte delle ragazze inizierà, scomparirà, e non si saprà più niente, e parte di loro torneranno appunto senza le ragazze e senza l'insegnante, la tutrice, che scompare insieme appunto ad altre tre ragazze. Il film è fondamentalmente, per gran parte, una sorta di film giallo, un film che appunto, da un certo punto in poi, diventa un mistero. seguiremo tutte le persone intorno al collegio che lavorano col collegio, o nel collegio, gli adulti che si chiedono cosa possa essere successo, arriverà la polizia, che intervisterà anche un giovane rampollo, insomma ragazzo ricco, che gironzola intorno al collegio insieme al suo servo, un suo garzone, diciamo, non garzone, come si dice, un suo maggiordomo quasi, con cui fanno scorribande nella natura, e appunto essendo molto giovani, attratti dalle ragazze, le seguiranno, le spieranno, le incontreranno, ma appunto anche loro due non sapranno che fine hanno fatto queste ragazze. La presenza dei due maschi è molto intelligente perché fa pensare subito a un qualcosa di sessuale, è accaduto qualcosa perché appunto i due ragazzi hanno fatto qualcosa di male, hanno... oppure no, e quindi inizierà a creare del mistero intorno alla loro sparizione, se sono ancora vive o se sono morte, e sono stati occultati, chi lo sa. Cerco di... ecco, fino a questo punto io non ho spoilerato praticamente nulla, però ecco, per parlare di questo film adesso devo andare oltre, quindi se non avete visto il film e volete godervelo, io vi invito ad andare su Movie Dome, Hit su YouTube e vedervelo e interrompere quella live, poi eventualmente guardate il video su YouTube della mia recensione, altrimenti restate. Non vi spoilerò adesso che cosa è capitato alle ragazze, perché quello rimarrà comunque un mistero. Allora, perché dico che è horror? Perché, come sapete, se avete visto il film, i due ragazzi non c'entrano nulla, non hanno commesso nulla e semplicemente anzi hanno seguito le ragazze fino a un certo punto per cercare di capire dove stessero andando, perché a un certo punto queste ragazze e anche la tutrice iniziano a salire sulla roccia, su questa sorta di montagna fatta di rocce e passaggi e iniziano a salire in modo molto strano perché sembrano quasi ipnotizzate e la stessa tutrice le raggiunge in un secondo momento addirittura senza vestiti, cioè con solo diciamo l'intimo addosso che è una cosa molto particolare per l'epoca. Insomma, una donna non si sarebbe denudata all'aria aperta così neanche in quell'epoca non lo avrebbe mai fatto, diciamo, non è... Le ragazze vengono attratte da... Tant'è che una di loro, quella più robusta, si spaventa molto e urla e torna indietro perché le vede proprio come se fossero ipnotizzate. Perché dico che c'è una componente horror molto forte in questo film? Perché effettivamente la componente horror è la roccia. La roccia ha qualcosa e la musica e l'atmosfera intorno al film sono... accompagnano, fanno intuire che ci sia qualcosa di magico intorno a questa roccia. Poi appunto nella parte finale scopriremo che cosa c'è. e quindi in realtà questa roccia ha una sorta di forza maligna o anche non maligna potremmo chiamarla forza diversa noi tendiamo sempre a identificare qualcosa che non conosciamo come qualcosa di spaventoso e di maligno però è una forza è una forza che le attrae e che le farà scomparire. nel senso che poi appunto verranno cercate e non verranno mai trovate. Il film è strano perché inizia veramente molto come un film molto tranquillo molto adolescente non lo so sembra un film che parla di ragazze di adolescenza di amori ha proprio quest'aura qua sembra ciao fantasma fatemi un un shout out a fantasma ha quest'aura qua come potrebbe risultare quasi noioso all'inizio cioè quasi se uno non sa che comunque all'interno c'è una componente thriller dice ma che cazzo cioè mo mi devo vedere sta roba invece no in realtà è proprio questo il bello il gioco cioè che passa da una situazione molto tranquilla molto gioiosa in cui ci sono queste ragazze bellissime giovanissime che esprimono proprio tutta la bellezza della vita della natura che a un certo punto insomma a un certo punto il film cambia completamente atmosfera e diventa estremamente inquietante perché le ragazze sono probabilmente morte questo è quello che noi crediamo per tutto il film e poi appunto ci sarà molta pressione intorno alla preside insomma alla donna che gestisce il collegio intorno a questa faccenda che creerà creerà molti problemi quindi fondamentalmente il film poi viene viene spoilerato in un film e romanzo viene spoilerato in un pezzo di romanzo che è stato pubblicato successivamente che vi invito anche a leggere se volete se volete spoilerarvi esattamente cosa cos'è accaduto alle ragazze e come mai appunto una di loro aveva tutto una praticamente a sparire sono in tre ragazze e l'istituto dice poi a un certo punto una ragazza ricompare e viene trovata con tutto il corpo graffiato ma con i piedi puliti con la faccia le mani graffiate ma i piedi puliti come se non so è una cosa che li ha incuriositi molto ecco vi passo il link per leggervi ovviamente è da wikipedia per cui magari per chi lo sapeva già se ne può fregare è molto interessante vedere come va a finire quello che accade lì è molto horror è molto mistico horror e ha a che fare con situazioni magiche e ultraterrene insomma qualcosa di veramente figo che che però ecco qua il merito non sta tanto nel in peter weir no che dice ah ok intelligente no tralasciare no sta proprio nell'editore nell'editore della scrittrice joan lindsay che gli impedì di mettere il finale nel libro non so non so esattamente quale fu la sua intuizione però la convinse che il libro sarebbe stato meglio senza quel finale e quindi il libro e il film godono di questo grandissimo regalo e qual è il regalo più bello che gli si può fare a un film del genere il mistero infatti per questo che io vi dico leggetelo il finale se lo volete leggere perché potreste scegliere anche di non sapere esattamente cosa è capitato alle ragazze perché è proprio questo il bello anche se vi dirò che questo finale in realtà apre solo altre domande non è che mette un punto alla storia anzi mette un punto ma poi apre tutta una serie di altre domande la cosa molto bella comunque per un horrorofilo è scoprire che non è un film che forse horror che forse parla di soprannaturale ma che parla di soprannaturale punto quindi quella è sicuramente la parte più bella Peter Weir è un regista della Madonna è un regista incredibile e nel film vedremo una quantità infinita di inquadrature sofisticate bellissime inquadrature rallenti e diciamo dissolvenze incrociate e cose di questo tipo quindi esteticamente non gli si può dire niente e a livello musicale vabbè c'è questa sorta di flauto che ci accompagna con questa musica che è veramente qualcosa di angosciante secondo me poi vabbè non vi sto a dire tutto magari ve lo rivedete non ve lo ricordate quindi vi tralascio anche altre dinamiche che ci sono nel film che sono interessanti che sono legate anche a della critica sociale perché comunque c'è anche tutto un tema di povertà all'interno c'è una ragazza che viene torturata viene maltrattata abusata psicologicamente perché è una ragazza povera è un'orfana e su di lei viene diciamo riversata tutta la frustrazione di aver fatto morire o scomparire queste ragazze insomma la responsabilità era loro e devono e non devono insomma si sentono di riversare tutta la loro rabbia su questa su questa povera su questa povera ragazzina un film estremamente elegante e sofisticato anche di ci sono oltre appunto dissolvenze e cose del genere ci sono anche dei bellissimi rallenti che non sono una cosa così scontata e oggi fare fare i rallenti è molto è molto più semplice fare fare dei rallenti che siano esteticamente belli quindi questi sono davvero davvero belli sofisticati questo questo è un po' tutto quello che cerco anche di non di non espormi troppo perché sennò vi rovino anche un rewatch o la visione questo è un po' tutto quello che voglio dire su questo film che forse è un po' troppo veramente un po' troppo dimenticato soprattutto da chi ama l'horror prima prima Chris diceva mi ricordo un po' Midsommar ci ho pensato un attimo non mi veniva in mente perché il perché invece in realtà è sotto la luce del sole in tutti i sensi perché ricordo Midsommar proprio perché è un horror al sole è un horror avvolto dalla luce completamente alla luce del sole quindi è proprio è proprio Midsommar in quel senso nonostante Midsommar non sia un film magico non sia un film che ha una componente magica anche se appunto gli abitanti di Arga vorrebbero insomma credono nella magia o credono nel rituale però effettivamente sì effettivamente sì adesso che ci penso meglio c'è questa questa somiglianza incredibile ed è un film comunque appunto che in qualche maniera sembra un film sembra un horror moderno sembra un horror di oggi questi horror che stanno nascendo adesso che non sembrano horror ma alla fine lo sono ecco lui Picnic Hang in Rock è proprio quel tipo di horror lì quello che stiamo facendo adesso 50 anni dopo praticamente bene Grazie a tutti